Che vergogna! Lei ricorderà che è stato nell'agosto del 2011 che il vostro governo, di cui la Lega ancora faceva parte, ha accettato tutte le richieste di Bruxelles e a me è stato dato mandato di realizzare gli impegni che il vostro governo aveva preso verso Bruxelles. Non li ho realizzati tutti, alcune cose le abbiamo fatte diversamente perché avevamo ancora una sovranità nazionale avendo potuto tirare fuori dai guai la finanza italiana senza bisogno della Troica, che invece sarebbe venuta andando avanti con le vostre linee. Quindi se vuole ne possiamo parlare più a lungo, non è una conversazione che io tema.